Che ne sapete voi di quello che ho sofferto, prima di prendere il treno e di venire qua? Che ne sapete di Gio Gaetano? E' pieno, ne parli come se fosse celebre. Oh, se volete me ne vado. Ma non potete avere la presunzione di dire che sapete già di che cosa si tratta? Perché voi di me non sapete niente. Ma so tutto. Quanti denari hai? Oh, se per questo, non preoccupatevi. Ho chi mi porterà i denari per le lezioni. Ma no, non dico questo. Dico quanti denari hai in questo momento. Ah. Beh, il biglietto per Borgo Mimose costa 70. Eh, 10 ce li metto io. E così torni subito da zio Sebastiano. Morirò piuttosto di tornare a Borgo Mimose. Troverò un altro che abbia più fiducia in me. Qui nel libro ci sono tanti nomi. Eh.